Ciao ragazzi, vi voglio parlare della Bougainville sanderiana, questa è la varietà sanderiana che secondo me, a di là di essere la più venduta, è anche la più rifiorente. Una pianta che da noi, specialmente in Nord Italia, si vende solamente nel periodo primaverile-estivo e mentre in certe zone d'Italia, tipo Meridione o nelle zone costiere, è considerata come pianta perenne. Ha un portamento rampicante ed è rifiorente tutta estate. La particolarità di questa varietà sanderiana è che è molto rifiorente, ha questi fiori molto visibili, la parte viola sarebbero delle bratte, dei finti fiori, sono in realtà delle foglie. Il fiore è in realtà questo piccolino bianco qua. È una pianta che per farla fiorire va spuntata spesso, ho visto, secondo la mia esperienza, va tagliata spesso e ha bisogno di molta, molta luce. Diciamo che quando un ramo è sfiorito bisogna potarlo e questo tenderà a rivegettare e a rifiorire. Quindi se teniamo, diciamo, la vegetazione vecchia, avremo sempre qualche piccolo fiorellino sporadico. L'ideale è tagliarla spesso, specialmente dopo una fase di grande fioritura. Va concimata spesso, da aprile fino a ottobre a novembre, può essere gestita come perenne. Qua da noi va spuntata, va riparata in una posizione luminosa e neanche riscaldata, tipo in un garage, in una stanza non riscaldata, vicino a una finestra, eccetera. Ho visto anche come le coltivano giù in Sicilia. Le tagliano completamente verso gennaio-febbraio, le spuntano completamente, le lasciano completamente pelate. E poi verso marzo, così quando inizia a fare caldo, vanno messe fuori. Quando la temperatura è minima di 5 gradi circa, uno le mette fuori e queste rivegetano. Appena uno le mette fuori, vanno concimate e vanno irrigate. È una pianta che va bagnata, però bisogna assolutamente evitare gli stagni d'acqua. Con il ditino, sentite qua, se il terriccio è umido, non la bagnate, se è asciugato, bisogna darle un goccio d'acqua. È una pianta che tende ad avere delle spine nel tronco, fa abbastanza male, ecco. Ha bisogno anche lei di tanta terra, quindi più le daremo della terra, più questa che sarà in modo vigoroso. Molto spesso qua i clienti cercano di piantarla nel giardino, ma difficilmente supera l'anno o due di vita, perché sotto ai meno 5 uno può metterla in una posizione riparata, ma non ce la fa. Mentre nelle zone un po' più miti, tipo la Liguria, il lago di Garda, così, ho visto anche degli esemplari molto belli inchianti, però sempre vicino a un muro, sempre verso sud, ha delle possibilità di sopravvivere. Qua da noi vi consiglio di tenerla in vaso e di ripararla ogni anno. Qua da noi vi consiglio di tenere in vaso e di ripararla ogni anno.